Distanti solo per una stagione. Sono bastati pochi minuti a Vincenzo Corvino per decidere di tornare a casa. Affirmato per il Fasano ha riabbracciato il Vito Curlo. Ci è voluto ben poco per convincermi a tornare a Fasano. È bastata una chiamata da parte del Presidente. Nel momento in cui abbiamo parlato forse cinque minuti, gli ho dato subito la mia disponibilità di tornare a Fasano. L'emozione nel momento in cui sono andato lì a Fasano per mettere la firma è stata veramente bella. Perché nonostante già conoscevo tutti e tutto, però ritornare è stato emozionante. Anche perché lì tutti quanti mi vogliono bene e ho fatto una scelta di cuore. Ha trascorso la passata stagione Allo Iacovone. Ha vinto il campionato di Serie D con il Taranto, collezionando 11 presenza e 2 gol. Numeri inutili a nasconderlo. Condizionati da un lungo stop per infortunio, ormai per sua fortuna un lontano ricordo. Fisicamente grazie a Dio ho recuperato il ginocchio, sto molto bene. Mi sto allenando ogni giorno per arrivare nelle migliori condizioni possibili e già da ritiro. I numeri con la maglia del Fasano sono di spessore per Corvino. 38 gol realizzati in 80 gare in biancazzurro. L'auspicio per nulla nascosto della nuova stagione. Quello di arrivare in doppia cifra. È sempre stato il mio obiettivo ogni anno. Poi raggiungere l'obiettivo qui a Fasano, fare 50 gol a Fasano. Secondo me è veramente bello e rimarrei ancora di più magari nel cuore della tifoseria. 50 gol con la maglia del Fasano nel mirino dunque per far felice. Una tifoseria a cui è particolarmente legato. Farò di tutto per far sì che ogni giocatore, ogni singolo giocatore, dà tutto per questa maglia. Sudo questa maglia domenica dopo domenica, anche durante la settimana. Prometto che faremo veramente di tutto per far felice la gente. Sarà una Serie D di livello altissimo. Bitonto Cerniode e Lavello si sono già scatenate sul mercato. Molfette e Nardoano hanno messo a segno diverse operazioni in entrata. Il Fasano tuttavia pensa solo alle vicende di casa propria. Penseremo domenica dopo domenica. Non ci vogliamo dare dei limiti a niente. Non abbiamo obiettivi prefissati. L'obiettivo nostro è entrare la domenica in campo, sudare la maglia e cercare sempre di portare i tre punti a casa.